Ora mi mostro veramente una roba arrivata super figa e super ignorante che ha ordinato la mia carissima dolce metà Lisa un portachiavi che non può mancare adesso vado a prendere un mazzo di chiavi voi ce li avete presenti quei conigli con le orecchie lunghe cioè fa troppo spaccare da ridere guardate anche i piedini ora vabbè io mi chiedo anche quello che dicevo a Lisa come cacchio fai ad avere a metterti nella borsa un coniglio così che occupa almeno sapete come sono le borse delle donne e comunque fa troppo ridere anche è bello per un maschietto tu lo prendi e lo tieni fuori dalla tasca così guarda che figo andare in giro col coniglietto poi questi orecchie, questi conigli con le orecchie lunghe questi conigli con le orecchie lunghe fanno veramente spaccare da ridere bello alla modica cifra di non mi ricordo una decina di euro mi sembra comunque poi vi metto il link sotto veramente una figata il coniglio portachiavi